buongiorno oggi ci troviamo a monte carasso siamo al secondo piano di una palazzina di un totale di due piani siamo serviti dalle scale ed entriamo immediatamente all'interno dell'appartamento lungo il corridoio ci accoglie immediatamente questo armadio muro molto comodo perché qui abbiamo anche la possibilità di appendere direttamente le nostre giacche questo è un appartamento di tre locali e mezzo situato in una zona molto tranquilla del paese procedendo alla mia destra trovo il bagno un bagno completo fornito di specchiera lavandino con il suo mobile la vasca da bagno il box doccia che verrà installato a breve e una toilette questo è un bagno finestrato procedendo ci apriamo al grandissimo salotto che come potete vedere è illuminato da entrambi i lati e sempre entrambi i lati hanno accesso a un terrazzo da questo lato troviamo questo bellissimo camino mentre da quest'altro lato come potete vedere ben illuminato abbiamo una cucina aperta una cucina completa abbiamo il lavandino lavastoviglie forno e piastre in vetro ceramica per finire il frigo con il suo congelatore vi voglio far notare che sia da un lato che dall'altro si può godere di una bellissima pista aperta direttamente sulle montagne ora procediamo questa è la zona notte abbiamo queste camere di cui la loro caratteristica avere questo bellissimo perché che crea un ambiente molto caldo e siamo già dotati di comodissimi armadi a muro vi mostro l'altra camera anche qua vi faccio notare ci sono già praticamente gli armadi a muro due camere dalla metratura generosa vi ricordo ci troviamo a monte carasso in una zona molto tranquilla e se siete interessati a questo appartamento contattateci ti affitto